E oggi parla esclusiva intera di cinchiali esterni 1 e 2, in diretta da Napoli, eccoci qua, siamo nel centro di Napoli, stanno a vedere Napoli senza tassi, ma perché domeniche sono tutti ritirati in casa a venire a essere visitati. Siamo riusciti a Napoli, stiamo dirigendo il nuovo verso casa, non so questo dialogo che si incatta, come dicevo prima, siamo in Napoli. Eccoci qua, un po' di traffico genuino di Napoli. Che non guasta mai, la sporcizia continua a regnare ai cigli delle strade, come sempre, certamente un po' di meno rispetto al periodo in cui Napoli era completamente paralizzato dall'aspettatura, però più o meno siamo là. Eccoci ripartiti. La strada è sempre completamente piena di bucchi e libertà, per tutte le mostre che l'abbiamo fatto, è abbastanza di tre. Sicuramente a pagli il tutto ci verrà, che c'è un premio, il premio lì, il bimbo, 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 il bimbo. Grazie. 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 Grazie.